Capitan Cordola si chiude la stagione regolare con una vittoria, una vittoria importante che se avesse avuto anche un seguito dagli altri campi, che comunque abbiamo guardato in contemporaneo, avrebbe addirittura portato a una posizione superiore, a diversi vantaggi nei play-out. Ti chiedo un commento su questa prestazione, fin dall'inizio sei stata protagonista, ma tutte le giocatrici hanno dato il loro contributo, in alcuni momenti quando Broni cercava di tornare a contatto e in alcuni momenti ha fatto veramente paura. Ti chiedo un commento della partita. Ok, è stata una partita che magari non è utile per la classifica, ma sicuramente arrivare ai play-out con una partita finale vinta dà uno spirito diverso, insomma. Abbiamo seguito molto bene il primo partita, sono contenta e soprattutto abbiamo avuto un ottimo atteggiamento. Spero che queste due cose, soprattutto l'atteggiamento, ce lo portiamo anche nei play-out, che secondo me sono partite veramente difficili dal punto di vista mentale, insomma. Chiedo sempre a tutto il pubblico di Moncavieri di seguirci e sostenerci, perché questo è veramente un momento importante della stagione e ovviamente vogliamo cercare di rimanere in A2 con il vostro supporto. Grazie. Grazie. Grazie.